Ciao ragazzacci bentornati sul canale, oggi andremo a smontare il movimento centrale a terno quadro della nostra rockrider le chiavi che ci serviranno sono l'estrattore per le penivelle, l'estrattore per il movimento centrale, un esagonale da 8, una 22, una 14 e l'immancabile svitol per pulire e lubrificare la filettatura. Iniziamo, per prima cosa andiamo a smontare il perno della penivella, inseriamo il nostro estrattore, via la prima patina, togliamo la catena, ora con il nostro estrattore andiamo a smontare il movimento centrale, partendo dalla parte di sinistra. La parte sinistra si svita verso sinistra quello di destra invece si svita verso destra, quindi vi ricordo quello di sinistra si svita verso sinistra, quello di destra si svita verso destra. Ora vi diamo una bella pulita, una bella lubrificata e poi rimontiamo tutto quanto. Ora procediamo con l'ingrassaggio e rinfiniamo. E rinfiniamo. E rinfiniamo l'ingrassaggio. E adesso andiamo a rinserire l'ingrassaggio. Ok ragazzi, lavoro terminato, se il video vi è piaciuto mettete un like e se avete qualche domanda scrivetela sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, DAIE!